Anticipazioni, selfie, le cose cambiano, 2, puntata 8 maggio 2017, è tutto pronto per la seconda edizione di selfie, le cose cambiano, la prima puntata è già stata registrata e Belen Rodriguez ha lanciato qualche occhiata all'ex marito, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono scambiati qualche battuta, più che altro da parte di lei, mentre lui parlava di quanto fosse importante la femminilità in una donna lei ha detto ridendo, e, ora te ne rendi conto, i rapporti tra Belen e l'ex marito Stefano De Martino sono buoni, Tina e Platinette hanno chiesto di poter saggiare la consistenza del sedere di Stefano per poter vedere la differenza con un ragazzo che voleva appunto rifarsi i glutei, e lo hanno fatto, il tutto davanti gli occhi divertiti di Belen se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale, grazie Grazie a tutti